Il Lungax e Fedez, nuovo progetto, vi spiazzeremo! Lady Gaga e il rap è Il Lungax e Fedez, nuovo progetto, vi spiazzeremo! Vanno per tornare con un nuovo grande progetto. Nel corso di un'intervista concessa a P.com, i due cantanti hanno svelato, se il grande progetto insieme è sfumato? No, anzi! Molto presto faremo questo grande annuncio. A proposito dei rumori sulla collaborazione con Lady Gaga, Il Lungax ha spiegato, questa storia di Lady Gaga è una cavolata, basta che io dica che sono un fan e subito scrivete che collaboreremo insieme. Ma continuate a scriverlo, non si sa mai E. Poi, Fedez e Il Lungax hanno rilasciato alcuni commenti sull'attuale scena rap italiana. Chi ci piace tra i giovani rapper? Love love per come scrive, la risposta di Fedez, mdr. E il Lungax, a me piacciono tutti. Faccio prima a dire chi non mi piace ma poi si creano le solite polemiche. Apprezzo Gali, Tedua e Dark Polo Gang che mi diverte un casino. Sono molto felice della trap, tanto questa cosa non la farò e questo significa meno concorrenza. Poi, su Rovazzi, siamo molto orgogliosi del progetto. Abbiamo preso un ragazzo dalla creatività incredibile e lo abbiamo portato in un mondo che non era il suo, prima montava video e voleva fare cinema. E' riuscito a fare tre canzoni di successo tra cui una con Morandi. Siamo felici di aver portato avanti un progetto su cui nessuno avrebbe scommesso. E di aver messo anche una macchia sulla carriera di Gianni, ridono, ndr. Infine, alla domanda, perché nei talent massacrate sempre i rapper che ci provano? Hanno risposto, perché quelli bravi non si presentano.